Benvenuti a meteogiulianci.it. Facciamo una carrellata su questa settimana, una settimana direi importante ancora per i vacanzieri perché all'interno di questa settimana cade sia la notte di Capodanno sia la giornata del primo dell'anno. Bene, diciamo che sarà una settimana con tempo bella al nord, gelate al nord, un po' di nuvole soprattutto sul medio adriantico al sud, un po' di piogge sia oggi che domani sulle regioni meridionali. Poi il primo di gennaio arriva una nuova perturbazione la quale porterà al mattino piogge sulla Liguria in estensione nel pomeriggio sempre di Capodanno alla pianura Lombarda, ma questa nuova perturbazione darà il peggio di sé nella giornata del 2 gennaio quando porterà piogge diffuse su tutto il centro nord dell'Italia e nevicate fino a puote molto basse sulle Alpi e persino forse in pianura sull'Astigiano, sul Torinese e sul Conese. Ma vediamo allora il tempo per oggi, ecco le nuvole, vedete che ricoprono quasi tutto il centro sud dell'Italia, libero invece da nuvole gran parte del nord e soprattutto le regioni di nord ovest. Allora andiamo a vedere in dettaglio il tempo che farà oggi vedete bello sulla regione di nord ovest, molte nuvole sul resto d'Italia, piogge su Emilia, Romagna, meglio adriatico al sud, nevicate fino a quote intorno a 800 millimetri sui rilievi delle basse marche, sui rilievi abruzzesi e molisane. Vediamo le temperature, temperature massime che non subiranno variazione di rilievo, intorno diciamo 7-8 gradi al nord, 9-11 al centro, 12-14 al sud e sulle isole maggiori. Bene, termino qui, vi ringrazio per l'ascolto, ancora un buongiorno e i miei auguri ovviamente per il nuovo anno.